E' un 4. Dai Ricci, dai! La prima batteria che è invenuta è 37,35. Vai Tommy! Perché regolarmente anche la tua sala. La seconda, scusate, batteria Giulio Maschi. Questa è stata strappata? Chi fa proprio che ci fa? Chi era due, come era? Dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Regolare, garotica, garotica! Le bats. Grazie. Grazie.